Oggi torniamo in studio insieme per un nuovo video di come ho scattato queste foto. Ciao, bentornata! Questo è un video dedicato a fotografi, fotoamatori e chiunque interessato a vedere come realizzare dei set fotografici creativamente. Questi sono set di ritratto posato in studio. Vi farò vedere nei vari set anche gli schemi di luce che ho utilizzato con dei video di backstage mentre io fotografo e ringrazio Isabella Memo per aver girato questi video. E vedrete anche delle immagini scattate dove ho preso dentro nella composizione anche il set per com'era strutturato. I set che vi propongo oggi vanno da un più semplice e pulito rispetto allo styling e al trucco e anche rispetto al setup creativo, quindi avremo un bianco e nero con poco contrasto, verso invece un ultimo set, il quarto set, dove il trucco sarà più impegnativo e anche lo styling. Per cui partiamo sempre semplici e andiamo ad aggiungere successivamente. Come sempre se avete curiosità o domande lasciatemele pure nei commenti perché vi risponderò o direttamente nei commenti o se l'argomento della domanda merita una risposta più approfondita cercherò di farci un video che possa rispondere alla domanda. Eccomi qui con il mio modificatore di luce preferito direi che è un octabox da 120 cm. Poi metto la doppia diffusione e al momento lo stavo attaccando senza. Qui invece abbiamo Veronica al trucco e acconciatura che sta truccando Mary, la modella per questa giornata. Questa qui sono io che fotografo la Mary nelle foto che vi farò vedere tra poco nel mio studio precedente a quello dove lavoro adesso. Questo è il primo set che abbiamo creato insieme, quindi con il body nero, sopra della seduta triangolare che vi ho già fatto vedere in un altro video. Qui ho un doppio modificatore di luce. A sinistra dello schermo un pannello nero, mentre a destra un pannello bianco per schiarire un po' le ombre dove la luce che vedete in alto non arrivava. Questa è un'altra foto come scattata, mi piace molto questo bianco e nero un poco contrastato che esce fuori da questo set di luci. E adesso vi faccio vedere un secondo set che abbiamo fatto invece, eccolo qui, con unicamente il beauty dish. Questa è la foto come scattata, questa invece è post prodotta, abbiamo usato sempre lo stesso body nero con l'aggiunta poi successivamente di un pezzo di tulle bianco che ho avvolto un po' a caso così a creatività attorno alla modella. Come vedete il beauty dish è questo qui in alto a sinistra del soggetto ed è un beauty da 60 con una diffusione. Questa è come scattata e qua invece abbiamo il come scattato in bianco e nero, quindi convertito in lightroom e qua con un po' di post produzione alzando leggermente le alte luci. Questa è un'altra di quel set, quindi solamente con il beauty dish. Bene, questo invece è il terzo set di questa giornata, vedete che abbiamo fatto un cambio d'abito. Veronica sta sistemando i capelli, gli ultimi dettagli, un po' di styling. Quello che mi piace tantissimo di questa modella di Mary è il suo viso così etereo, così sognante e infatti in genere do molte indicazioni come vedete ma in questo caso mi è servito davvero poco, ci siamo molto divertite. Parlando di luci invece vedete con la riga rossa vi ho segnalato, prima spento e adesso acceso, dietro a 45 gradi ho messo uno strobe con gelatina rossa perché volevo provare questo schema. Davanti ovviamente la luce principale è l'octa che avete visto all'inizio, che illumina davanti la modella. L'ho fatto anche perché per convertire in bianco e nero, secondo me, usare una gelatina rossa aiuta a una conversione già in lightroom, che è questa che vedete adesso, dove il bianco e nero, in particolare i bianchi, diventano molto intensi, proprio grazie al fatto che c'era la gelatina rossa dietro. Qui invece passiamo al quarto set, dove abbiamo osato di più sia con il trucco che con lo styling, come vedete Veronica è andata avanti con un trucco molto intenso e questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere sia le immagini finali che il backstage. Allora qui ho davanti, credo, solamente il beauty dish, queste invece sono fatte usando la luce naturale, anzi più che naturale l'available light che c'era in studio, con dietro quella che è una luce continua, una stella pro light 2000, che adesso vedete in queste immagini, ve la segnalo in rosso, vedete quel puntino di luce, in realtà è molto potente, è una luce continua che io uso molto spesso ed è veramente straordinaria. Questo è l'ultimo set, spero vi siano piaciute queste foto, questo video, in caso vi ringrazio per un like e vi do appuntamento, alla prossima!